si è tenuto presso la sala della regina della camera dei deputati un convegno organizzato dal sindacato dei medici anestesisti rianimatorie dell'emergenza urgenza con al centro la necessità di risollevare curare la sanità pubblica del nostro paese un incontro che è stato un'occasione di riflessione di confronto sul tema della sanità pubblica italiana e sul valore del personale sanitario che ne garantisce il funzionamento l'evento di oggi intitolato il valore sociale del pubblico impiego racchiude in sé le tematiche su cui abbiamo pensato di chiedere un momento di riflessione di incontro fra le istituzioni e le varie rappresentanze del mondo professionale della sanità pubblica questo per affrontare insieme e trovare sinergie al fine di individuare le soluzioni e le problematiche che affliggo il nostro servizio sanitario nazionale di cui l'impiego pubblico e la spina dorsale un'iniziativa che arriva in un momento storico particolare per il settore che ha visto negli ultimi anni diminuire il riconoscimento del lavoro nel sistema sanitario nazionale rendendo urgente l'avvio di un confronto diretto tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori di società scientifiche ed associazioni con l'intento di individuare i motivi per cui la sanità pubblica ha perso di attrattività come priorità il ministro Schillaci ha posto proprio il problema di rendere più attrattivo il servizio sanitario nazionale per gli operatori sanitari quindi stiamo immettendo soldi nei prossimi tre anni la legge di bilancio prevede circa 12 miliardi di stanziamento in più sul servizio sanitario nazionale certamente sappiamo bene che bisogna a mettere e fare di più riorganizzare fare in modo che atterrino davvero i finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza con la creazione finalmente della struttura della sanità territoriale che fanno parte di una riorganizzazione che a nostro avviso avviene contemporaneamente anche alla ricerca di nuovi finanziamenti e di nuove risorse che possono essere messe sul servizio sanitario nazionale quella alla camera dei deputati è stata anche l'occasione per discutere delle problematiche che affliggono il sistema un momento utile per cercare soluzioni e proposte per un futuro più sostenibile per migliorare il benessere del personale sanitario abbiamo pensato che le proposte da potersi realizzare sono quelle che danno valore proprio al rapporto di pubblico dipendente all'interno del servizio sanitario pubblico che ultimamente viene snaturato da tutta una serie di rapporti atipici tra cui il ricorso alla fornitura di servizi attraverso appalti private alle cosiddette cooperative che in realtà sono estremamente dispendiose a fronte di un rapporto con la qualità e la sicurezza delle cure che non è all'altezza di ciò che è il servizio sanitario italiano la società scientifica di anestesia e animazione terapia intensiva e del dolore vede come riferimento come fare una notte la possibilità di fare formazione per i giovani colleghi e per i colleghi meno giovani essere riferimento anche con buone pratiche cliniche linee guida quello che noi chiamiamo aumentare la qualità e garantire la sicurezza so